Non è un gran periodo per i 5 Stelle, le elezioni in Abruzzo, questa vicenda che comunque scuote l'anima di chi vi vota, è una questione che comunque mette in ballo l'identità. Le elezioni in Sardegna, in cui vi auguro il meglio, però insomma gli osservatori dicono potrebbe essere un altro colpo. Come lo sta vivendo? Si sente responsabile di questo? Io ogni volta che vengo da lei ho un déjà vu su questa domanda, perché sono anni che alle amministrative noi andiamo male, ci siamo sempre andati male alle amministrative, perché le amministrative non sono le politiche. Ora noi in Sardegna abbiamo preso alle politiche il 42 se non sbaglio. Se prendiamo due punti, tre punti, cinque punti, meno di quel 42 diranno debacle del movimento. Ma i cittadini conoscono meglio di me quali sono le dinamiche delle amministrative con decine di liste, un voto molto più gestito sul territorio. Le faccio questo esempio. Alle europee voteranno insieme alle europee 4.000 comuni, che con tutte le liste civiche, tutte le coalizioni e le ammucchiate rappresenteranno un corpaccione di candidati che porteranno i loro candidati alle europee. Alle politiche neanche un comune è andato a votare insieme alle politiche. Che sto dicendo? Che le elezioni politiche sono sempre diverse da tutte le altre. Questo non vuol dire che le amministrative noi non dobbiamo essere competitivi. Ed è per questo che penso che adesso il movimento, l'ho rimandato per troppo tempo questo, si debba dare un'organizzazione sia nazionale che locale. Diventate un partito. No, non un partito. Secondo me deve essere una forza politica però che è in grado di essere presente sul territorio e parlare con tutti i portatori dei vari interessi. Ogni giorno... Si chiama partito? Guardi, partito, quando c'era allora il vero partito... Sembra quello che era un languorino, avrei bisogno di qualcosa di... No, partito quando... È un partito! I partiti, quando c'erano i veri partiti, avevano anche una loro struttura, una loro cultura. Poi negli anni che cosa è diventato? Un partito. È diventato molto spesso un comitato d'affari. Ed è per questo che questo termine non si addice per me al Movimento 5 Stelle. Solo perché suona male, diciamo. Però la struttura è quella, vice segretario, garante... No, 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 guardi... Ma Grillo è vero che non la stima più tanto? Io l'ho sentito... Adesso andiamo, qua, nei prossimi giorni a pranzo insieme. Anche questo, quante volte in questi anni si è detto... L'ho sentito... È vero che Grillo ha scaricato. Ci sono due cose. Il Movimento sta per morire e Grillo ha scaricato di mare. L'ho sentito... Io sono vivo e vegito e il Movimento è il corpo più vivo e vegito di me. Vorrei dire questa cosa perché... Ormai si dice a Napoli... Una cosa l'ho sentito, una cosa andremo a pranzo insieme. Da quando è uscita fuori? Mi state tirando per i piedi. Che vuol dire quando si spera sempre che il Movimento possa morire per poter finalmente tornare a quelli di prima. Io non gliel'ho vinta a quelli di prima. Quelli che abbiamo mandato all'opposizione il 4 marzo grazie al voto degli italiani. Quando è uscita fuori la vicenda di Grillo che avrebbe preso le distanze da lei perché la considera troppo vicino alla politica, diciamo quella pratica... Dove è uscita fuori? Beh, ci sono stati importanti giornali che hanno... Importanti giornali? No, non ci crede. Crede solo ai suoi. Io sento Grillo a telefono. I giornali non credo che sentano Grillo a telefono. Ci siamo sentiti oggi pomeriggio. Mi vuoi bene, gli ha detto. No, non c'è bisogno che arriviamo a questo. Senta... Se vuole la faccio chiamare e vi fate voi una conversazione di questo tenore. No, no, non ci tengo. Non lo stesso.